Scusate, scusate, c'è qualcuno? Scusate, sono vostri il camion? Sì, sono vostri. Qualcuno di voi va a Barcellona? Io non vado a Barcellona. Non puoi andare a Barcellona? No. Mi porto la Vespa. Ho bisogno di qualcuno che mi porti la Vespa a Barcellona. Se voglio andare, posso andare con il Vespa. No, mi porta la Vespa, metto la Vespa sul camion, ma lei va a Barcellona col camion? Ma sì, se vuoi andare, diamo. Quanto ci vuole? Ma andiamo a piedi anche, no? Qualcuno di voi va a Barcellona? Io vado giù a Londra. Tu vai a Londra? A Londra, io a Londra. Lei dove va? Io vado a Londra, nel Messico. Come va addirittura in Messico? Eh, no, ma io non mi lascio. Scusate, vedete che vuoi andare? Barcellona, mi serve qualcuno che mi porti la Vespa a Barcellona. Ascoltami, li vedi sti camionati così? Eh. Sai cosa ti costano? Andiamo con il mio, Barcellona. Cos'è che devi portare? Cos'è che devi portare? La Vespa. Solo la Vespa? Ma ci stai dentro. Porca miseria. Ascoltami la cosa. Ti ci metti con questo? Eh. Ma sai che c'erano le iscritte e sono andate via da quanti chilometri ho già fatto? Tu non ti immagini neanche. C'è da fidarsi? Noi siamo tre amici e bambini. Eh, ho capito, ma c'è da fidarsi. Alfredo? Alfredo mi conosce da quando ero bambino. Ah, c'è da fidarsi. Va bene. Allora metto sulla Vespa. Io ogni 70-80 chilometri devo fermarmi. Io magari sto qua. Chiudiamo. Sì. Tanto tu mi senti da lì. Vabbè. Ciao. Ciao. Che Barcellona, che spettacolo. Buon giorno, Pablo. Anna, che tal stai? Bien. Mamma mia che spettacolo la rambla. Fabio. Tutto bene? Usted fuma. Ancora 52. E facciamo la prima sosta. A la derecha. A la di izquierda. Adelante.